L'ultimo appello prima del voto lo dedico ai cittadini di Cremona, della provincia di Cremona, per dirvi che l'occasione che abbiamo, che condividiamo è quella di fare un saldo di qualità, di avere una regione che si occupa anche di questi territori che sono stati un po' dimenticati negli anni scorsi, soprattutto per quello che riguarda le infrastrutture, pensate ai ponti, le strade, le ferrovie e l'ambiente, ma anche una regione che scommette sulla cultura, sulla bellezza come leva di sviluppo. L'ha fatto la città di Cremona in questi anni, io vorrei che lo facesse tutta la Lombardia, che potessimo raccontare al mondo quanto la Lombardia è una terra meravigliosa, per cui coraggio, votateci in scheda verde, votate per tutti, sono scritto Giorgio Gori. Io sostengo Giorgio Gori, perché la Lombardia ha bisogno di un presidente della regione così, perché abbiamo bisogno di un presidente della regione attento ai territori, che sappia unire i territori, che ascolti anche il sud della Lombardia che in questi anni è stato trascurato, perché abbiamo bisogno di una visione di regione, abbiamo bisogno di non essere lasciati soli su temi importantissimi come le infrastrutture, come i ponti, come le ferrovie, come il welfare, come il lavoro, come l'immigrazione, su temi essenziali come lo sviluppo e come la coesione sociale. Abbiamo bisogno di una persona competente, che sa fare le cose e di una persona che usa parole equilibrate, pacate, non urlate, parole di senso. Abbiamo bisogno di un presidente della regione come Giorgio Gori. Lui è pronto, siamo pronti, ma dobbiamo convincere ancora e dire e parlare ancora in queste ultime ore con tante persone, perché abbiamo bisogno di una regione migliore, abbiamo bisogno di Giorgio Gori, presidente della regione Lombardia.